Benvenuto in Sparring! Sono Lorenzo Cavalieri, l'ideatore del progetto Sparring. Se hai un problema di lavoro o se vuoi coltivare il tuo progetto di carriera, questo è il posto che fa per te. In Sparring ti vogliamo dare strumenti, tecniche, suggerimenti concreti per coltivare il tuo progetto di crescita professionale. Che tu abbia 20 anni o che tu abbia 60 anni, il tuo lavoro diventa il nostro lavoro. Se vuoi cambiare la tua storia professionale, devi partire da te, dalle tue risorse, dalle tue energie. Non ti lamentare, non fare la vittima del mercato, del datore di lavoro, del capo. Puoi risolverlo il tuo problema di lavoro, puoi coltivare il tuo progetto di carriera, ma ti devi rimboccare le maniche. La soluzione sei tu. Noi ti diamo tutto il supporto possibile, perché siamo degli esperti di risorse umane, abbiamo un'esperienza professionale, una reputazione importante e mettiamo in gioco tutte le nostre competenze per darti un supporto il più possibile concreto. Lo mettiamo, questo supporto, nei nostri libri, nei nostri articoli, nei nostri videocorsi, nelle nostre consulenze. E ci piace avere un rapporto maturo con i nostri clienti, da adulti. Noi non ti diremo mai io sono figo, io ce l'ho fatta, io ho i soldi, fai come me, puoi farcela, coroneremo il tuo sogno. Noi sappiamo che la storia delle persone spesso è una storia complicata. I bisogni delle persone sono bisogni speciali. Le persone sono sempre eccezionali, sono sempre eccezioni. Non esiste il rimedio che vale per tutti. Bisogna ascoltare, bisogna condividere senz'altro dei suggerimenti, delle informazioni tipiche del mondo del lavoro, però poi bisogna lavorare con il cambiamento delle persone, lavorare sulla mentalità, lavorare sui comportamenti. Noi lo vogliamo fare in modo molto serio, in modo molto professionale. E poi qui si lavora con una mentalità da palestra. Siamo degli sparring. Per cui noi ti diamo suggerimenti, strumenti, contenuti, informazioni, dritte, trucchi se vuoi, però poi il lavoro sporco in palestra lo devi fare tu. Allora, clicca qui sotto per scoprire tutto quello che possiamo fare nei nostri progetti di carriera con i nostri clienti. Io personalmente negli ultimi 15 anni ho seguito 11.000 persone che mi hanno parlato dei loro problemi di lavoro. Vogliamo continuare a farlo con tante altre migliaia di persone, con la serietà di sempre, con la professionalità di sempre. Resta con noi, questo è uno spazio per te. Mi auguro di trovarti e di vederti molto presto. Ricordati, dipende da te. Ricordati, dipende da te.